Si tratta di bambini, c'è l'urgenza di intervenire sul sistema degli affidi. Le recenti notizie sulle inchieste Veleno e Angeli e Demoni scuotono la coscienza sociale del Paese. A dirlo è il Ministro della Giustizia Bonafede. Già attivati tutti i poteri di verifica e di approfondimento sulla correttezza dei procedimenti di affido e sull'operato giurisdizionale. È una questione molto delicata che riguarda bambini e quindi bisogna veramente affrontarla nel miglior modo possibile. Il miglior modo possibile è lavorare a testa bassa, cercare di monitorare tutta la situazione a livello nazionale. La proposta è un'indagine ad abbiospettro e una vera e propria banca dati, così come confermato dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano durante la presentazione delle raccomandazioni per la riforma del sistema di tutela. Procedure chiare, trasparenti, uniforme e tempi certi. Il cuore ovviamente è rappresentato dalla nuova disciplina del procedimento in materia di responsabilità genitoriale, dalla creazione di un sistema informativo unitario, una banca dati dei minorenni, delle strutture di accoglienza e degli affidatari. L'invio delle raccomandazioni è stato ritenuto opportuno a seguito delle osservazioni del Comitato dell'ONU e ovviamente dopo i fatti di Bibiano. Ma nel concreto serviranno a evitare che i casi di affidamento illeciti si ripetano. Per buona fede lo Stato si deve impegnare a livello normativo, ma deve anche investire risorse. E la garante, non ho la palla di vetro, dice, ma l'auspicio è che queste linee di indirizzo possono impedire nuovi episodi di quel genere.